Il vicequestore ha avvenuto il dottor Stefano Seretti, in servizio presso la squadra mobile, effettuavano un'articolata attività investigativa. Nel corso della cerimonia per il 163esimo anniversario della Polizia di Stato, sono state consegnate benemerenze a due cittadini, che con le loro segnalazioni hanno consentito l'arresto di alcuni malviventi. Sono stati conferiti inoltre riconoscimenti a 13 poliziotti, che si sono distinti per attività di servizio. Tra questi, il vicequestore aggiunto Stefano Seretti, a seguito di attività investigative concluse il 26 febbraio 2013, con cinque ordinanze di custodia cautelare. Sì, un'operazione molto complessa a Pesaro, che ha portato all'arresto di cinque persone, un grosso traffico anche di medicinali falsificati, in quel caso era anche del Viagra, che spacciavano nelle discoteche, nei luoghi di incontro di giovani e giovanissimi. Un fenomeno che purtroppo è venuto a galla, è stato proprio lo spaccio del Viagra, proprio a giovani e giovanissimi, oltre a sostanze stupefacenti. E oltre a questo anche riciclaggio, altri reati, insomma un'organizzazione che si era radicata sul territorio, e facendo perno su un soggetto di spicco della criminalità, anche organizzata del sud Italia, era riuscita ad organizzarsi e a gestire il traffico qui nel nostro territorio. Grazie.